sia chiara una cosa io non devo chiedere scusa a nessuno perché non ho fatto del male a nessuno non ho detto parole brutte non ho insultato non ho minacciato nessuno mai nella vita l'ho fatto figuriamoci adesso alla soglia dei 50 anni perciò mi venite a scrivere sotto i miei video chiedi scusa devi pentirti devi fare mia colpa ma di che di che cosa di che cosa ma voi che ne sapete di quello che io ho detto non oppure avete travisato avete travisato sicuramente c'è certe menti bacate me le bacate proprio meno male che la maggior parte non è così su questa piattaforma e ci sono cervelli lungimiranti che capiscono quello che io dico i miei discorsi che sono sempre abbastanza propositivi adesso vi andrò a raccontare quello che ho letto in queste in queste ore e vi ringrazio a chi è venuto a scrivere sotto i miei video parole insomma con coscienza con criterio la critica costruttiva l'accetto sempre assolutamente a chi ha messo like a chi si è iscritto al mio canale grazie 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 non finirò mai di farlo l'altro giorno ho postato un video dicendo che juric non è il mio allenatore preferito ma qual è il problema posso dirlo o non posso dirlo per quello che ho visto fino adesso per quanto riguarda la sua carriera sono libero di dire le mie idee i miei gusti lo posso fare ma ho detto subito juric è il nuovo allenatore della roma in bocca al lupo a juric perché se juric va bene la roma va bene enrico caffarelli va bene perché io voglio il bene della roma voglio il bene della roma mettetevelo chiaro in testa mettetevelo dentro la zucca enrico caffarelli vuole il bene della roma perché vive calcisticamente per la roma sia chiaro sia chiaro mi fate proprio uscire di testa guardate mi fate proprio andare il sangue al cervello poi vogliamo andare sulla partita andiamoci andiamoci vi ricordate voi quando è arrivato dei rossi che andò via morigno no tutti contenti che è andato via morigno perché la roma andava male arrivò dei rossi che cambiò la squadra giocavano tutti meravigliosamente bene vi ricordate o non vi ricordate o solo quello che vi pare a voi ricordate alcuni di voi ovviamente quelli che mi sono venuti a scrivere sotto ai miei video insultandomi qua su youtube su tik tok su instagram per carità se uno ci mette la faccia è giusto pure che riceva parole negative no ma insulti per che cosa devo chiedere scusa per chi per quale motivo perché ho detto che non mi piace yuric come allenatore perché preferivo dei rossi sulla panchina per questo motivo devo chiedere scusa yuric io posso chiedergli scusa per al per tantissimi altri motivi ma per i miei gusti assolutamente no e poi adesso bisognerà vedere la roma se abbia continuità se questo trend possa essere intrapreso in più partite in europa league domenica con squadre che con tutto il rispetto per l'udinese che è stato secondo me sarà un fuoco di paglia non lotterà per vincere lo scudetto con squadre che giocano a calcio in una maniera tosta dura bella da vedere squadre di blasone allora lì dovremo giudicare la roma lì dobbiamo vedere se effettivamente questo cambio di tecnico questa scelta scriteriata per me io ancora lo ripeto ma non perché ce l'ho con yuric per carità perché è arrivata troppo presto è arrivata troppo presto dei rossi poteva avere tutto il tempo per poter migliorare la sua squadra che già avevamo visto contro la juventus che non ha rischiato nulla o quasi col genoa è arrivata all'ultimo secondo il pareggio per carità io ho criticato alcune scelte ci può stare ma da qui a sbatterlo fuori tricoria come un pivello ce ne corre infatti la signora solucco ha fatto i bagagli e se n'andata per gli insulti per le minacce che ha ricevuto così dice così dicono però però sappiamo tutti che mi dispiace che è una donna per carità perché le donne poi vanno tutelate ancor di più per carità questo ci mancherebbe però se andiamo in casa lazio il signor lotito sono vent'anni che gira sotto scorta eppure non mi sembra che abbia mai abbandonato la nave anche se i laziali magari sono anche contenti se lo facesse no no io non lo so ragazzi non lo so se questo è il modo di di porsi sotto sotto i video di uno che che ci mette la faccia per carità ripeto io sono pronto a tutto a me non interessa perché tanto voglio dire ne ho sentite di cotte e di crude ma dire a me che io devo chiedere scusa ma per quale motivo ma i calciatori sono certi paraculi ragazzi ma avete visto ieri come come correvano a due a duemila andavano a duemila perché si stavano cagando in mano tutta la contestazione del dello stadio olimpico tutti erano incassati neri incassati neri e quindi non ero soltanto io a pensarla in questo modo tutta la curva sud gran parte dello stadio e quindi anche loro devono chiedere scusa a yuric anche loro non credo perché yuric è arrivato adesso non c'entra nulla yuric non c'entra niente povero cristiano a me è dispiaciuto anche che non è stato accompagnato in conferenza stampa da chi sol fi di sol fi l'ectoplasma chi sol fi non voglio criticare una persona che non conosco perché non l'ho mai visto neanche lo so come fatto di di fascia di corpo dicono che è un bel ragazzo beato a lui quindi ragazzi e ragazze io non devo chiedere scusa a nessuno perché non ho insultato nessuno non ho criticato nessuno ho soltanto dato una mia idea un mio gusto ad un allenatore che arrivava sulla panchina giallorossa se lui da qui alla fine del campionato ci porterà in champions league come ha detto perché l'obiettivo della roma sarà andare in champions league io sarò l'uomo più felice di questo di questo mondo viva yuric viva la roma forza yuric per carità ma dire voi secondo voi io cioè io ho visto la roma di mazzone la roma di del neri la roma di zeman la roma di di radice qualcuno di voi neanche lo conosce radice neanche lo conosce radice io ho tifato anche radice radice ragazzi per me è indifferente però ho dato soltanto un mio pensiero su quello che poteva essere il nuovo allenatore se mandi via uno come de rossi no che non ha tutta questa esperienza assolutamente però magari un'idea innovativa di calcio ce l'aveva tutto qua ma se gli uri ce fa farà bene viva yuric forza yuric forza roma e e così e così sia e così sia io lo sapete tutti amo la mia roma mi piace vedere tutte le partite per carità tutte me le guardo da dalla dagli scontri salvezza alle partite illizza per lo scudetto sono appassionatissimo però dentro il mio il mio corpo scorre sangue giallo rosso fin dalla nascita e fin quando avrò vita quindi io voglio il bene della roma e se yuric sarà l'allenatore delle delle nostre vittorie viva yuric ce lo porterò su un piedistallo assolutamente questo è poco ma sicuro scusate per lo sfogo mini sfogo non è che abbia detto chissà che insomma non è che mi sono permesso di usare parolacce anzi non è nel mio nel mio dna e spero di non farlo in futuro vorrei un vostro commento qua sotto cosa ne pensate enrico caffarelli vi augura una buona giornata a tutti e vedremo appunto la roma che futuro avrà se continuerà a vincere e ad essere propositiva per quanto riguarda la continuità di rendimento ciao a tutti